L'augurio ai Veneti in queste occasioni si augurano un sacco di belle cose, però penso che la cosa fondamentale e veramente lo faccio di cuore ai Veneti di augurare la salute. Ho fatto un investimento nella mia vita nel curare bene i Veneti o meglio di fare in modo che siano curati bene e la prima cosa che auguro a tutti è la salute. Chi non ce l'ha o è in difficoltà auguro veramente di cuore che possa risolvere le proprie anse e anche le proprie difficoltà personali. Dopodiché io spero che questo Natale sia trascorso dai Veneti in famiglia, vicino alle persone care e che sia un Natale di pace e di tranquillità. Auguro un 2017 sfavillante nel quale si possa lasciare alle spalle definitivamente questa crisi e gli indicatori ci sono, come dico sempre io, dopo la pioggia viene il sereno, ma che sia anche un 2017 che apporta a tutti noi tanta, tanta, tanta autonomia. Noi ci stiamo giocando la storia del Veneto con il referendum dell'autonomia, quindi sarà anche l'occasione per incontrare i milioni di Veneti durante questa primavera. Vogliamo celebrare il referendum? È il referendum dei Veneti, saranno i Veneti poi a decidere se vogliono l'autonomia del Veneto oppure no, ma avranno questa occasione servita unica nella storia, perché siamo l'unica ragione che è stata per prima autorizzata a questo referendum. E poi il 2017, che sia l'anno nel quale si realizzano i sogni, i progetti, le progettualità, è un pensiero particolare alle persone in difficoltà, agli anziani, alle persone che comunque magari hanno necessità di assistenza. È un saluto veramente di cuore lo faccio ai tanti giovani. Ai tanti giovani, con la speranza che i giovani possano trovare sempre di più opportunità in Veneto, non siamo convinti che i giovani vadano via perché sono dei rompiscatole in Veneto. Ma noi amiamo i nostri ragazzi e le nostre ragazze che restino qui e facciamo di tutto per creare queste opportunità. Quindi che sia anche per loro l'anno dell'occupazione, l'anno della realizzazione dei loro progetti professionali e formativi.